Ciao a tutti e bentornati nel nostro canale! Allora oggi faremo un gioco sulla... Trave! Trave! Ho preparato dei biglietti e su ognuno c'è un elemento che voi sapete fare a trave. Sono abbastanza semplici, voi ora li pescherete uno alla volta e in base a quello che pescate sarà deciso l'ordine in cui dovrete fare questi elementi, ok? Chi pesca il primo? Giada? Che non ho fatto io! Ok, il primo elemento sarà equilibrio su una gamba a 3 secondi. Secondo, pesca la vigna. Chi ha già pescato intanto può andare sulla trave. Secondo elemento, accosciata. Ok. Pesca Chiara. Poi ci saranno due slanci. Io ho fatto questo. Sulla trave, chi ha già pescato. Marti, pesca. Aia, mi siedo, mi rialzo. Pesca Melissa. Pennellino. Sara. Tre passi di lato. Ok. Vai su Sara e Franci. Apro le gambe con un salto. Chi pesca prima di voi? Decidete voi, dai. Gira a volta. E l'ultima è... Tre relevé. Ok, avete lasciato due passi indietro. Ok. Tutte sulla trave. Prendetevi uno spazietto. Ok. Ci siamo sistemate. Adesso tutte bellissime. Pronte? Equilibrio su una gamba sola. Tre secondi. Uno. Due. Tre. Stringere il sedere. Giù. Brave. Accosciata. Giù. Toccare col sedere i talloni. E su in piedi. Pam. Belle le braccia. Ok. Due slanci. Destra. Sinistra. Stringere il sederino. Mi siedo sulla trave. E poi mi rialzo. Ah, la vina è eliminata. Melissa. Ok. Pennellino. Bello alto. Bisogna staccarsi. È dalla trave? Rifacciamolo. Ok. Chiusi i piedini. Giusto. Ferma. Ah, è eliminata. Tre passi di lato. Belle le braccia. Uno. Due. Tre. Fermi. Franci, vieni un po' più in qua che non ti vedo più. Lì. Ferma. Ok. Perfetto. Apro le gambe con un salto. Vai già da... Ok. Gira volta. Brave. Tre volte relevé. Sulle punte scendo. Uno. Due. Spingere forte. E tre. Brave chi ha le braccia belle. Due passi all'indietro. In là. Giratevi verso... È vicino. Uno. Due. Giusto. E rigira. Ok. Voi siete sopravvissuti al primo giro. Adesso si rifà tutto più veloce. Pronte? Via. Equilibrio su una gamba. Tre secondi. Uno. Due. Tre. Non appoggiatevi. Rifallo già perché era bruttissimo. Uno. Due. Tre. Giusto. Accosciata. Giù. Due slanci. Su, su, su. Due slanci. Uno. Due. Mi siede e mi rialzo. Giù, Marty. Siediti sulla trave. Mi rialzo. Ah! Caduta. Eliminata. E... Pennellino. Bello alto, eh? Di nuovo. Erano bruttini. Tre passi di lato. Apro le gambe con un salto. Giravolta. Tre volte relevé. Belle le braccia. Uno. Due. Chiusi quei piedi, Giadina. E... Due passi indietro. Ok, ancora più veloce. Non cade nessuna. Pronte? Via. E quindi presso una gamba sola a tre secondi. Uno. Due. Già eliminata. Non l'hai fatto. Scendi. Uno. Due. Tre. Accosciata. Più giù. Vai. Su. Due slanci. Mi siedo, mi rialzo. Pennellino. Spingere. Ok. Tre passi di lato. Apro le gambe con un salto. Rifacciamolo. Chiudere. Andate un po' in alto. E via. Ok. E gira volta. Releve. Tre volte. Spingere. Uno. Due. Tre. Due passi indietro. Braccia pelle. Braccia pelle. Adesso facciamo più difficile. L'equilibrio su una gamba sola lo facciamo sulla punta. Uno. Via. Uno. Due. Due. Ah. Francia è eliminata. Fermi. Ok. Accosciata. Giù. No, no. È eliminata. Su. Due slanci. Ok. Giratevi là. Fate i due slanci in avanti. Sulle punte. Via. Uno. Due. Giusto. E mi siedo e mi rialzo. Da lì ferma e così. Pennellino. Ah. Sarà eliminata. Chi è la vincitrice di oggi? Adele. Adele. Bravissima. Batti i cinque. Uh. Ci rivediamo nel prossimo video. Ciao.